Grazie e ringrazio Reupati che per il secondo anno consecutivo ha dato la possibilità ad AIFA e a me è particolare come facente parte del settore HTI ed economia del farmaco di AIFA di poter partecipare e mettere a disposizione anche un po' le conoscenze sviluppate negli anni di lavoro che mi vedono impegnata in AIFA. Trovo assolutamente interessante ed utilissimo il confronto e l'opportunità che Opati dà di avviare un momento di confronto diretto tra quelle che sono l'agenzia regolatoria AIFA e il paziente esperto. Oggi abbiamo affrontato un tema particolarmente complesso ma nello stesso tempo affascinante che riguarda l'approccio di HTA, le valutazioni di HTA. Sicuramente è fondamentale avere il punto di vista del paziente raccogliere il punto di vista del paziente perché sicuramente agevola fortemente tutte quelle che sono poi le valutazioni di HTA che hanno, come abbiamo avuto modo di vedere nella prima parte della relazione come obiettivo finale è quello di garantire l'accesso al farmaco, quindi di garantire la disponibilità su tutto il territorio nazionale in maniera quindi omogenea indipendentemente da quelle che possono essere le condizioni economiche e sociali del singolo paziente e quindi garantire la disponibilità sul territorio di farmaci sicuri ed efficaci sulla base proprio di valutazioni basate solo ed esclusivamente sulle evidenze scientifiche. Quindi sicuramente esperienza positiva e spero che il contributo sia stato utile anche per fare un primo inquadramento di quello che vuol dire approcciarsi alle valutazioni di HTA. Grazie. Grazie.